Purtroppo la media fino a qualche tempo fa era di un morto ogni 8 ore praticamente, oggi temo che stiano aumentando queste medie. Temiamo che come spesso capita il fatto che ci sia un'azienda in subappalto dove spesso si devono scaricare i costi perché c'è questa corsa al basso costo in tutti i modi che poi produce esattamente queste storture che non si usano le risorse per la sicurezza, per i salari e poi vengono fuori queste tragedie. Ovviamente siamo ancora in attesa di capire cosa è successo in questo momento, l'unico pensiero vero è quello di rammarico, di tristezza e di vicinanza alla famiglia di queste persone.